Cos'è il bipensiero? Avere due pensieri opposti contemporaneamente e credere che entrambi siano veri, giusto? Eccellente, Meredith. Significa credere scientemente a delle bugie pur sapendo che sono tali. Un esempio tratto dalla nostra vita quotidiana. Oh, io devo essere carina per essere felice. Ho bisogno della chirurgia per essere carina. E devo per forza essere magra, famosa, alla moda. In quest'epoca l'immagine della donna è ridotta a un oggetto di consumo. Prostitute, corpi da scopare, da picchiare, da comprare, da scegliere. Ragazzi, è l'olocausto del marketing. Ogni minuto della nostra vita, 24 ore su 24, le entità del potere lavorano sodo per annientarci il cervello. E allora, per difendere la nostra identità e preservare i nostri processi mentali dall'assimilazione passiva di un mare di merdose idiozie, la sola cosa è leggere per stimolare l'immaginazione e la libertà di pensiero. E coltivare la nostra coscienza secondo il nostro sistema di credenze. Fidatevi, l'unico modo per sopravvivere è poter preservare la nostra mente.